Grazie, guarda questa ragazzi, dovete stare attenti, ci siamo? Grazie, guarda qui, tutti, she stai attenti, ci sono i sugi! Grazie, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui! bravi ragazzi grazie 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 2 1 vai 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 Grazie. 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 Che tifo. Grazie. Voglio portare. Ti fai i bianchi o non ti fai i bianchi? No, sotto le danze. Io non mi... Anche te, seri, ti voglio portare. Guardiamo il senso. Guardiamo il senso. Guardiamo il senso. Andiamo da qui. Guarda qui. Ma no? Sì, è vero. No, perché poi siamo imparizzati. Sì, arrivate. Ma tanti, tanti. Quando arrivassate... Stai facendo la terapia. Dicami, diciami. Anche te. Vedi, c'è un altro. Siamo caffè. No, è una spinta. No. Vediamo, Giorgio. Presidente, dice signore. Grazie. 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 Veloce. Siete troppo forti ragazzi. Grazie. Siete troppo forti ragazzi. Grazie. 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 che stai sempre? vai siamo 3,2,1 vai 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 Dai! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.